Domani mattina avremo la consueta conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 della festa di Sant'Anna. Per noi è una data importantissima, non c'è estate senza Sant'Anna e io ho sempre detto e ho sempre ribadito che Sant'Anna rappresenta il nostro 25 dicembre, il nostro Natale. È una festa che è fortemente radicata nella nostra tradizione e c'è un legame fortissimo da parte di tutti gli schitani, ma non solo da parte degli schitani, ma anche da parte degli ospiti che hanno avuto l'opportunità di vederla. E si crea questo magico cordone umbilicale per il quale chi l'ha vista un anno tende sempre a ritornare gli anni successivi per rivederla e per rivivere le emozioni che si finiscono per avere durante la festa. Quest'anno sarà una bella edizione con delle belle sorprese, con una bella sorpresa specialmente quando ci sarà l'incendio del castello con il compositore della colonna sonora che noi oramai per tradizione utilizziamo, sarebbe Blue Dolphin, il suo Schlagx che verrà di persona a intonare le note di questo noto brano musicale. Inoltre quest'anno a impreziosire e a creare una sorta di collegamento di filo rosso nella storia della nostra comunità con la festa di Sant'Anna, vi è anche la mostra, una mostra che si tiene lungo il pontile aragonese e che racconta negli anni i momenti più particolari delle varie edizioni, le barche più particolari delle varie edizioni che si sono susseguite negli anni in questo luogo magico ischitano. Quindi sarà un momento sempre bello e simpatico a cui invito tutti quanti a partecipare.